Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per la storia di oggi ci troviamo a San Diego, vicino a una città di circa 150.000 abitanti di nome Escondido. Qui vivevano i coniugi Dubois insieme alla loro figlia di 14 anni, Amber. Amber non era come le altre ragazzine, le altre ragazzine insomma della sua età, nel senso che aveva degli interessi e degli hobby un po' diciamo fuori dal comune. Al contrario dei suoi coetanei, Amber infatti cercava di evitare un pochino le situazioni molto rumorose, molto accalcate, con tanta gente, uscite con tanti amici, feste e cose del genere. Preferiva uscire con poche persone e pochi amici però selezionati. Aveva anche un grande animo artistico, le piaceva molto disegnare e scrivere, frequentava il liceo della sua scuola con grande passione ed edizione. Aveva un sacco di piani per il suo futuro, voleva andare all'università, voleva iscriversi in un'università in una grande città dell'America, laurearsi, trovare un lavoro, fare tanti soldi e comprarsi una casa come penso sia diciamo l'obiettivo di un sacco di altri ragazzini. Purtroppo nel 2009 i signori Dubois decisero di separarsi, si lasciarono, rimasero però in ottimi rapporti e anche Amber continuò a frequentare tranquillamente e molto di frequente sia sua mamma che suo padre. Il 13 febbraio del 2009 era un venerdì mattina come tanti. Amber stava uscendo per andare a scuola, aveva salutato sua mamma sulla soglia della loro casa e si era avviata con lo zaino in spalla. Il tragitto da casa sua alla scuola non durava molto, era circa un chilometro e mezzo e la ragazzina non avrebbe dovuto prendere nessun mezzo di trasporto, infatti andava normalmente a piedi a scuola. Quel giorno Amber era più allegra del solito perché avevano un progetto decisamente impegnativo e bello a scuola, infatti per un progetto scolastico che aveva organizzato una sua insegnante gli studenti avrebbero adottato una capretta da tenere in giardino e da crescere praticamente fino a quando non sarebbe diventata adulta. So che per noi italiani sembra una cosa assurda, cioè nessun insegnante penso in Italia penserebbe mai di fare un progetto scolastico dove dà delle capre ai suoi studenti, però l'America è un po' soprattutto a parte, soprattutto per questi progetti scolastici, anzi non è decisamente il progetto più assurdo scolastico che io abbia mai sentito. In ogni caso Amber era sempre molto puntuale alle lezioni, le lezioni iniziavano alle otto e mezza e quel giorno però qualcosa accadde in questo tragitto perché la ragazzina non arrivò mai alle lezioni. Quel pomeriggio la madre di Amber l'aspettava a casa per insomma dopo le lezioni, dopo il termine delle lezioni e Amber non si presentò nemmeno a casa. Sia la madre che il padre in realtà si preoccuparono da subito, questo perché come vi avevo detto Amber era una ragazzina estremamente giudiziosa, non era mai capitato che facesse ritardo senza avvisare i suoi genitori, quindi provarono a contattarla al telefono, il telefono risultava spento. Allora il padre di Amber decise di andare direttamente a scuola per vedere se magari sua figlia si era intrattenuta lì con alcuni amici o magari le lezioni per qualche motivo erano durate più del solito, oppure col fatto che entrambi i genitori sapevano che c'era questo nuovo progetto con le capre magari per qualche motivo insomma si era fermata lì di più. Il signor Dubois però arrivò alla scuola della figlia solo per sentirsi dire dagli insegnanti che Amber non si era presentata alle lezioni quel giorno. Ora conoscendo Amber era davvero improbabile per tutti che si fosse diciamo semplicemente allontanata da casa, fosse scappata da casa per qualche motivo o che avesse semplicemente deciso di marinare la scuola. Quindi praticamente da subito venne contattata la polizia. Fortunatamente le ricerche della polizia iniziarono subito, non ci fu neanche un secondo di dubbio sul fatto che questa ragazzina non si fosse allontanata volontariamente da casa e da scuola, quindi iniziò la polizia ad indagare e i genitori di Amber insieme agli amici e i parenti a bussare di porta in porta per tutto il tragitto che avrebbe fatto Amber per andare a scuola, far vedere le fotografie a vari negozianti, i passanti, insomma per cercare di capire se qualcuno l'avesse effettivamente vista quel giorno. E alcune persone effettivamente confermarono di aver visto Amber quella mattina intorno alle 8 fare quel tragitto appunto proprio verso la sua scuola. E una persona in particolare, un signore che era proprietario di un'edicola che c'era su questo tragitto che Amber aveva fatto, disse di aver riconosciuto la ragazzina e disse di aver visto insieme ad Amber un altro signore, un ragazzo che descrisse intorno alla Trentina. Né questo ragazzo né Amber gli erano però sembrati preoccupati, agitati, insomma con qualche comportamento sospetto. Di quest'uomo però questo signore non aveva visto dei particolari, aveva solo visto che era un... un ragazzo, un uomo adulto insomma, ma non aveva visto bene i lineamenti, non era in grado di diciamo descriverlo fisicamente. Arrivò il giorno dopo e purtroppo ancora di Amber nessuna traccia. Avevano cercato di tracciare il suo telefono però come vi ho detto risultava in realtà spento. E accadde una cosa strana il giorno dopo, la mattina dopo la sua scomparsa, quindi ufficialmente quando passarono 24 ore, ovvero che il cellulare di Amber che era rimasto spento da quella mattina fino a quel momento, si accese per pochi secondi, dopodiché si rispense. Questa accensione fu abbastanza da essere rilevata dalla polizia, ma non abbastanza da poter essere tracciata e collocata col GPS in un punto specifico. Era però qualcosa di strano nel senso che sembrava palesemente che qualcuno avesse acceso inavvertitamente, per sbaglio, questo telefono. Purtroppo passarono un altro paio di giorni senza nessuna novità sul caso. I genitori di Amber che all'inizio erano molto fiduciosi che loro figlia fosse in realtà stesse bene, che nessuno le avesse fatto del male. La madre in particolare si aspettava un tentativo di riscatto per qualche motivo. Insomma passarono i giorni e anche le speranze che avevano i genitori iniziarono ad affivolirsi. Passarono ancora dei giorni, molte persone in realtà contattarono la polizia dicendo di aver visto Amber, in realtà ogni segnalazione si rivelerà essere un errore, cioè c'erano delle ragazzine che assomigliavano a lei. Il caso divenne abbastanza mediatico, nel senso che comunque se ne parlava in telegiornali, vari programmi televisivi e cose del genere. Purtroppo piano piano passarono i giorni, i mesi e poi si arrivò al primo anniversario dalla scomparsa di Amber. Police have called off the physical search for a teenager who's been missing for six days now. More than three weeks ago, today, hundreds of volunteers came out to help search for Amber Dubois. Fourteen-year-old Amber Dubois who's been missing for more than two months. Tonight marks five months since an Escondido teenager vanished. Missing for seven months. The family is saying that detectives aren't doing enough to find her. There is no trace of the teenager. Al primo anniversario la speranza iniziò piano piano a trasformarsi in rassegnazione. Organizzarono una veglia in onore di Amber, della memoria di Amber. Purtroppo però nonostante la veglia fu ripresa da diversi telegiornali, non ci furono nuove appunto sul caso. E a questo punto accade una cosa, non correlata per forza con il caso ma decisamente strana. Ovvero nel mese dell'anniversario della scomparsa di Amber, più precisamente il 25 febbraio, un'altra ragazzina scomparve letteralmente a dieci minuti di auto dal punto in cui era scomparsa Amber l'anno prima. Sia la distanza fisica che la distanza cronologica di queste due scomparse erano talmente vicine che non poteva trattarsi di una semplice coincidenza. Il 25 febbraio del 2010, nelle prime ore del pomeriggio, la diciassettenne Chelsea King stava facendo jogging al parco di Escondido. Il percorso fatto, il tragitto fatto durante la sua corsa, era un percorso estremamente frequentato da famiglie, persone col cane, sportivi che andavano a correre o a fare un altro tipo di attività all'aperto. Insomma, era un posto assolutamente sicuro, controllato, era il classico parco di città dove le persone andavano a trascorrere il tempo all'aperto. E non solo, era un percorso che Chelsea aveva fatto un sacco di altre volte. Era una ragazza molto sportiva e andava a correre praticamente una volta a settimana e andava quasi sempre lì. Chelsea era una ragazza molto popolare al suo liceo, molto sportiva, come vi ho detto faceva parte della squadra di pallavolo del liceo. Era anche molto intelligente, aveva fatto un sacco di test d'ingresso in varie università dell'America, perché appunto si stava avvicinando il momento di scegliere, di diplomarsi al liceo, di andare all'università. Ed era stata accettata da ogni singola università per la quale aveva fatto richiesta. Anche lei, esattamente come Amber, avevano davanti un futuro lungo e luminoso. Chelsea, quel giorno, come immagino abbiate già capito, non tornò mai a casa. I suoi genitori, che la stavano aspettando, anche loro si preoccuparono subito per Chelsea, perché non era una di quelle ragazze che faceva tardi e non avvisava. Il padre in particolare andò subito a controllare al parco, insomma, dove sapeva che sua figlia sarebbe andata a correre. Non la trovò da nessuna parte, fece un sacco di giri e non riuscì ad individuarla. La chiamò, provò a chiamarla al telefono, la ragazza non rispose. Individuò però la sua macchina nel parcheggio di questo parco, riuscì ad aprirla perché aveva un doppione di chiavi. All'interno trovò gli effetti personali della ragazza, il cellulare, la borsa e le chiavi. A questo punto non poterono far altro se non contattare la polizia, che si presentò subito sul posto e, anzi, per la seconda volta presero subito seriamente il caso. Vennero subito chiamate un sacco di altri poliziotti, di altre persone, per avviare ufficialmente le ricerche all'interno del parco. Dopo appena due ore di ricerche avevano già ritrovato qualcosa. Avevano trovato i calzini di Chelsea, che erano sporchi di sangue, avevano trovato la biancheria intima della ragazza e un polsino che indossava quando andava a correre. La notizia fece ovviamente scalpore. Il caso venne comprensibilmente subito collegato a quanto accaduto ad Amber, sia per il fatto che era accaduto un anno prima, sia per il fatto che era accaduto a dieci minuti da lì. Le persone avevano, soprattutto le persone della città, insomma, avevano ancora bene fresco in mente i ricordi di Amber, delle ricerche, eccetera, quindi sembrava che si stesse ripetendo per la seconda volta lo stesso incubo. Il giorno dopo la scomparsa di Chelsea si fece avanti una donna. Anche lei aveva frequentato per un po' di tempo quel parco lì dove era scomparsa Chelsea e anche lei andava a correre lì. Non lo frequentava più da un paio di mesi perché due mesi prima, nel mentre di una delle sue corse mattutine, era stata aggredita da un ragazzo. Fortunatamente questa donna aveva fatto diversi corsi di autodifesa, quindi era riuscita senza nessun problema a respingere il suo aggressore, che era poi scappato. La donna aveva fatto denuncia al tempo alla polizia, aveva fatto anche un identikit, ve lo lascio, insomma, qua sopra in modo che possiate vederlo anche voi. Le indagini però erano un po' cadute nel nulla, nel senso che, insomma, non avevano trovato nessuno che corrispondesse alla descrizione. Probabilmente non c'era stata neanche, diciamo, una cura eccessiva nel approfondire questo caso, fatto sta che quel caso di questa aggressione era finito un po' nel dimenticatoio. Era sicuramente però una notizia molto indicativa, considerato il fatto che era caduto solo due mesi prima e nello stesso posto in cui era scomparsa anche Chelsea. La biancheria intima trovata nel parco che apparteneva a Chelsea venne fatta analizzare ovviamente in laboratorio e trovarono su questi indumenti due tracce di DNA. Uno corrispondeva ovviamente a Chelsea, l'altro era un DNA di un uomo. Riuscirono ad isolare questo DNA e lo inserirono nel classico ormai famosissimo, spunta fuori ad ogni caso, database americano nel quale inseriscono tutti i DNA delle persone che per un motivo o per un altro vengono arrestate. In questo momento nessuno aveva nessun tipo di speranza del fatto che questo DNA potesse portare effettivamente a un nome e invece contro ogni probabilità effettivamente saltò un match. E non solo questo match era al 100%, quindi non c'era nessun dubbio del fatto che quel DNA corrispondesse a questa persona qui, ma il ragazzo che era spuntato fuori era letteralmente identico all'identikit fatto dalla donna che era stata aggredita due mesi prima. Si trattava di John Albert Gardner, un ragazzo di 30 anni, originario di una città chiamata Calver City, a circa due ore di auto da escondio. Qualche anno prima John si era trasferito insieme a sua mamma e al compagno di sua mamma in una casa che praticamente affacciava proprio su questo parco. Sua madre, Katie, era un'infermiera e lavorava da sempre ad un ospedale psichiatrico della zona. E questa donna notò da praticamente subito che in suo figlio c'era qualcosa che non andava. Fin da quando era piccolissimo infatti John aveva dei comportamenti decisamente inquietanti, sembrava essere in qualche modo ossessionato dalla sfera sessuale, ma non era una sfera sessuale che possiamo considerare normale o sana. Perché innanzitutto si comportava in modo estremamente molesto con le sue compagne, con le sue amiche, nel senso dico molesto, in modo proprio violento. E in più fin da piccolissimo, tipo da quando aveva una decina d'anni, era interessato in una maniera in cui nessuno dovrebbe essere interessato, da bambine molto piccole, tipo 3-4 anni. Katie, come vi dicevo, notò da subito che in suo figlio c'era qualcosa che non andava. Lavorando nell'ambito insomma medico, psichiatrico, fece subito valutare suo figlio e lo fece seguire da degli esperti fin da quando era piccolissimo. A dieci anni John venne ricoverato per dieci giorni. E questa cosa mi, non lo so, mi manda davvero in confusione perché lo psichiatra che lo seguiva da quando era piccolissimo aveva descritto John come potenzialmente molto pericoloso per la comunità. Aveva scritto nei fascicoli che John non soffriva di nessun disturbo, di nessun tipo, che era semplicemente una persona cattiva, l'aveva descritto così. Tra parentesi, non so se è il modo in cui si dovrebbe esprimere o in cui dovrebbe pensare uno psichiatra. Non lo vedo molto utile da un punto di vista psicologico, dal punto di vista di uno psichiatra. In ogni caso, questo è quello che scrisse riguardo a John, lo riscrisse come una persona potenzialmente pericolosa appunto per la comunità. Segnalò in realtà più volte all'autorità John. E la stessa cosa la fece anche Katie. Nel senso che quando notava dei comportamenti preoccupanti, davvero preoccupanti, era lei la prima a contattare le autorità. E questo lo voglio specificare per una cosa di cui parlerò dopo. In ogni caso, nel 2000, John venne arrestato e condannato a 5 anni di prigione perché aveva tentato di abusare della sua vicina di casa, che al tempo aveva solo 13 anni. Uscì nel 2005, dal 2005 al 2009, che è il caso, insomma, l'anno in cui scomparve Amber. In realtà ebbe diversi altri problemi con la legge per altri reati minori. Una cosa strana, cioè strana, no in realtà non è per niente strana, non mi sorprende per niente. Praticamente quando, cioè questa è una roba normale, quando in America vieni arrestato e condannato per un qualche tipo di reato sessuale, scatta una sorta di segnalazione nei tuoi confronti e non puoi più fare tutta una serie di cose, tipo non puoi più prendere armi, non puoi più avere una pistola, non puoi più stare vicino a delle scuole, ad esempio, se sono reati nei confronti di minore, non puoi vivere insieme a dei minori, ad esempio, cioè non puoi andare a vivere a casa di qualcuno che abbia un figlio piccolo, tutte delle cose del genere. Solo che, come al solito, e non è una roba solo americana, purtroppo, vengono fatte tutta una serie di segnalazioni, eccetera, però di fatto nessuno ti controlla. Infatti in questo periodo dove John non si sarebbe dovuto avvicinare a scuole, eccetera, eccetera, lui si comportò come se nulla fosse e nessuno segnalò la cosa, perché di fatto nessuno della polizia lo controllava effettivamente. E questo purtroppo succede ovunque, in altre, anche in situazioni diverse da queste, quindi non è una cosa americana, però è una cosa che io quando la sento, non lo so, mi viene da perdere un po' di fiducia nelle istituzioni. In ogni caso la polizia contattò la madre di John, Katie, che gli informò del fatto che suo figlio il 25 febbraio non si era presentato a casa fino a tarda notte ed era arrivato a casa completamente coperto di fango. Quindi ovviamente con questa informazione e con il DNA, che era ovviamente la prova più schiacciante, la polizia lo arrestò. John però subito disse di non centrare assolutamente niente col caso, nonostante ci fosse il suo DNA sull'indumento di questa ragazza. Continuò a negare ogni tipo di coinvolgimento, anche dopo che la signora, quella che vi dicevo prima, che era andata a correre, era stata aggredita ed era riuscita a respingere l'aggressore, e poi aveva fatto anche l'identikit, lo identificò, fecero la classica identificazione che si vede nei film, dove lo mettono in una stanza insieme ad altre persone, lei fu subito in grado di identificare John. Il ragazzo rimase in prigione, dopo due giorni da questo arresto, la polizia, che continuava a cercare all'interno del parco, trovò il corpo di Chelsea, lo trovò in un arenato praticamente, in un laghetto che c'era in questo parco. Le condizioni del corpo non erano delle migliori, perché era stato comunque in acqua, riuscirono però a determinare la causa del decesso, ed erano diversi colpi di arma da taglio. E a questo punto accadde una cosa, insomma che a me un pochettino mi spezza il cuore, ovvero che i media diedero praticamente in pasto al pubblico l'indirizzo dove viveva prima di essere arrestato John, e viveva ancora Katie, sua mamma, con il suo compagno. E le persone iniziarono a presentarsi davanti alla porta di Katie, a insultarla ogni volta che le usciva, fecero anche degli atti vandalici, scrissero con della vernice rossa diverse volte, nel senso che poi Katie toglieva queste scritte, e il giorno dopo insomma spuntavano di nuovo. Delle scritte dove praticamente le si chiedeva di andarsene, e le si dava la responsabilità dell'omicidio di Chelsea, e io la trovo, non lo so, una cosa molto scorretta anche perché è stato provato che Katie ci ha provato davvero in tutte le salse a far seguire il figlio, cioè non sono quei casi dove persone con dei problemi vengono lasciate a se stesse, cioè Katie davvero lo aveva fatto valutare, lo aveva fatto seguire per anni, lo aveva fatto ricoverare, aveva chiamato più volte la polizia. L'unica cosa forse in più che uno può fare è cacciarlo di casa, ma non avrebbe evitato quello che è accaduto, magari non sarebbe stata Chelsea che era proprio sotto casa, ma sarebbe stata un'altra persona. Da quello che sappiamo, dalle informazioni che ho trovato online, non è Katie ad aver fallito, ma il sistema. Una volta trovato il corpo di Chelsea, John decise di confessare. Disse che si era nascosto in quel parco, e stava aspettando effettivamente una vittima, aveva addocchiato già un po' prima questa ragazza Chelsea che correva da sola, si era nascosto in un punto, diciamo dove sarebbe stato nascosto da occhi indiscreti, e quando arrivò Chelsea saltò fuori da questo cespuglio, l'aggredì con un coltello, la trascinò in un luogo più isolato, abusò di lei, dopodiché abbandonò i vestiti dove poi verranno ritrovati dalla polizia, e gettò il suo corpo nel lago. Come vi dicevo, già tutti prima di trovare un colpevole, erano convinti del fatto che la scomparsa di Chelsea e quella dell'anno prima di Amber fossero assolutamente collegate, quindi chiesero ovviamente a John se avesse qualcosa da dire sul caso di Amber. All'inizio John negò, la polizia pressò, e John finalmente scedette, anche sul caso dell'anno prima. diede delle indicazioni, indicò un boschetto, diciamo, in un'area periferica, di escondido, lì sotto terra, troveranno i resti di Amber. John disse di averla avvicinata, mentre lei stava andando a scuola, e infatti quel signore che aveva l'edicola, che vide Amber parlare con un uomo, un ragazzo, vide proprio John, purtroppo non lo vide in faccia, quindi non riuscì a dare nessun tipo di descrizione. John aveva cercato di convincerla ad entrare nella sua auto, Amber non c'era cascata, quindi aveva continuato a camminare, lui però l'aveva seguita con l'auto, e non appena si era trovato in una vietta dove c'era meno gente, l'aveva trascinata nella sua auto. L'aveva minacciata con un coltello, aveva abusato di lei, dopodiché l'aveva colpita sempre con quel coltello, e l'aveva sepolta dove poi venne trovata dalla polizia. John dirà poi in un'intervista che gli dispiaceva tantissimo per quello che aveva fatto, disse di avere dei grandi rimorsi, e che se avesse l'occasione di tornare indietro e non farlo, lo farebbe, ma che in quei due momenti non era riuscito a controllarsi, era come se avesse un impulso che non riusciva a fermare, frenare in nessun modo. Al termine del processo viene condannato all'ergastolo, sia per il caso di Chelsea che per il caso di Amber, gli vengono anche dati data, diciamo, una pena aggiuntiva di 25 anni, che ovviamente, vabbè, si è preso due ergastoli, quindi non conta molto, comunque una pena aggiuntiva di 25 anni per l'aggressione della signora appunto che stava correndo e che l'aveva respinto. Vi lascio ancora da vedere un pezzo di un'intervista che John ebbe, un'intervista telefonica, che fece proprio dalla prigione, con una giornalista, in modo che possiate sentirlo parlare, possiate fare, insomma, le vostre valutazioni. I mean, I was aware of doing and I could not stop myself. I was in a major rage and pissed off and pissed off at my whole life and everybody that's hurt me and blew up and I hurt the wrong people. I hate myself. I really do. There is no, there is no taking back what I did and if I could, yes, I would. I called all these mental health places saying I'm losing control, I need help. they told me I was too bad as soon as they found out I was a sex offender. Now, if I'm denied help, am I fully to blame for my actions? Hell yeah, I understand. But could it have been prevented? Yeah, it could have. Hey, John. Yeah. Are there other victims? Ah, good try. Oh, good try. Anche il caso di oggi si conclude così, come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo se volete sostenere il canale di iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento, magari seguirmi su Instagram se vi fa piacere, mi trovate come Elika Pano. Ah, ho anche aperto, lo dico qua, alla fine, prima volta, ho anche aperto un account, pagina, non so esattamente come si chiama, su TikTok, dove praticamente faccio quello che faccio qua ma a versione molto più ridotta, l'obiettivo è portare dei casi sui quali non ci sono abbastanza informazioni, abbastanza immagini, video, cose del genere per farne un video completo su YouTube. Grazie di aver guardato questo video, per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.